Questa è un'opportunità ed è l'opportunità di mettere in campo delle idee concrete che possano essere realizzate, quindi non solamente sognate, immaginate, pensate, ma realizzate concretamente e non solo per voi stessi, per il vostro percorso di scuola, di formazione, una cosa che fate in aula, con i vostri professori eccetera, ma qualcosa per la città. Grazie a Fondazione Conad e a tutte le aziende che sostengono il progetto perché poi con le risorse economiche che hanno messo e hanno investito e senza quelle non saremmo riusciti a portare a termine tutto l'obiettivo che ci siamo dati che è molto importante. Cercate di carpire la comunicazione di oggi perché tutto quello che vi viene detto è nel vostro interesse e a fin di bene per stimolarvi. Io dico stiamoci a questo momento proprio perché la speranza di un futuro anche bello, di una città a impatto positivo, ma di un mondo a impatto positivo, siete veramente voi. Il messaggio che vorrei lanciarvi è che la sostenibilità è un tema concreto. Iniziate a maturare una sensibilità per quello che riguarda questo tema perché davvero farà la differenza tra voi e un altro qualunque lavoratore. Quindi mi raccomando non sprecate questa occasione. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie a tutti